Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 8 luglio. Sul nord Italia ancora ha debole circolazione di venti atlantici, al centro-sud invece domina l'anticiclone africano. Per quanto riguarda fenomeni, quindi rovesci e temporali sparsi al mattino sul Piemonte, Lombardia e Veneto, al pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, nella sera bello ovunque. Le temperature saranno in rialzo, massime intorno a 27-31 gradi al nord, al centro in Sardegna 28-33 gradi, al sud 28-34 con punte di 37 sull'interno della Sicilia.